Nascere dall'alto e nascere con la forza dello Spirito Santo. Noi non possiamo prendere lo Spirito Santo per noi, soltanto possiamo lasciare che Lui ci trasformi. E la nostra docilità apre la porta allo Spirito Santo. E Lui è chi fa il cambio, la trasformazione, questa rinascita dall'alto. La promessa di Gesù di inviare lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è capace di fare delle meraviglie, cose che noi neppure possiamo pensare. Un esempio è questa prima comunità cristiana, che non è una fantasia, questo che ci dicono qui. È un modello dove si può arrivare quando c'è la docilità e si lascia entrare lo Spirito Santo e ci trasforma. Una comunità, diciamo così, ideale. E' vero che subito dopo di questo incominceranno dei problemi, ma il Signore ci fa vedere fino a dove potremmo arrivare se noi siamo aperti allo Spirito Santo, se siamo docili. In questa comunità c'è l'armonia. Lo Spirito Santo è il maestro dell'armonia. È capace di farla, l'ha fatto qui. La deve fare nel nostro cuore. Deve cambiare tante cose da noi, ma fare l'armonia. Perché Lui stesso è l'armonia. Anche l'armonia fra il Padre e il Figlio. E l'amore di armonia è Lui. E Lui con l'armonia crea queste cose come questa comunità così armonica. Ma poi la storia ci dice lo stesso libro degli Atti dell'Apostoli di tanti problemi nella comunità. Questo è un modello. Il Signore ha permesso questo modello di una comunità così, ma quasi celeste. per farci vedere dove dovremmo arrivare. Ma poi incominciarono le divisioni nella comunità. L'Apostolo Giacomo, nel secondo capitolo della sua lettera, diceva che la vostra fede sia immune di favoritismi personali che c'erano. Non fatte discriminazioni. Gli Apostoli devono uscire a ammonire. Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, credo nel capitolo undicesimo, si lamenta. Ho sentito che ci sono divisioni fra voi. Cominciano le divisioni interne nelle comunità. Questo ideale è per arrivare, ma non è facile. Sono tante cose che dividono una comunità. Sia una comunità cristiana, parrocchiale, o diocesana, o presbiterale, o dei religiosi e religiose. Tante cose entrano per dividere la comunità. Vedendo quali sono le cose che hanno diviso le prime comunità cristiane, io trovo tre. Prima i soldi. quando l'Apostolo Giacomo dice questo, di non avere favoritismi personali, dà un esempio, perché se alla vostra chiesa, alla vostra assemblea, entra uno con l'anello di oro, subito li portate avanti. e al povero lasciate da parte i soldi. Lo stesso Paolo dice lo stesso. I ricchi portano da mangiare e mangiano loro e i poveri in piedi. E lasciamo lì come dirgli arrangiati come puoi. i soldi dividono. L'amore dei soldi dividono la comunità, dividono la chiesa. Tante volte nella storia della chiesa dove ci sono deviazioni dottrinali, non sempre, però tante volte dietro ci sono dei soldi. soldi nel potere, sia potere politico, sia soldi in contante, ma ci sono dei soldi. I soldi dividono la comunità. Per questo la povertà è la madre della comunità. La povertà è il muro che custodisce la comunità. i soldi dividono l'interesse personale. Anche nelle famiglie. Quante famiglie sono finite, divise per una eredità? Quante famiglie? E non si parlano di più. Quante famiglie? Un' eredità. Dividono, i soldi dividono. un'altra cosa che divide una comunità è la vanità. Quella voglia di sentirsi migliore degli altri. Ti ringrazio Signore perché io non sono come le altre. La preghiera del fariseo. La vanità sentirmi che è anche la vanità nel farmi vedere. la vanità nelle abitudini, nel vestirsi. Quante volte, non sempre, ma quante volte la celebrazione di un sacramento è un esempio di vanità. Chi va con i vestiti migliori, chi fa quello, l'altro. La vanità, la festa più grande. anche lì entra la vanità. E la vanità divide perché la vanità ti porta a fare il pavone. E il pavone, dove c'è il pavone, se divisioni sempre. una terza cosa che divide una comunità è il chiacchierizio. Non è la prima volta che lo dico, ma è la realtà. È la realtà. Quella cosa che il diavolo mette in noi è come un bisogno di sparlare gli altri. Ma che buona persona quella. Sì, sì, ma però subito. Il ma è quello che è una pietra per squalificare l'altro. E subito qualche cosa che ho sentito la dico e così l'altro lo abbasso un po'. ma lo spirito sempre viene con la sua forza per salvarci di questa mondanità dei soldi della vanità del chiacchieriggio perché lo spirito non è il mondo è contro il mondo è capace di fare questi miracoli queste grandi cose. Chiediamo al Signore questa docilità lo spirito perché lui ci trasformi e trasformi le nostre comunità parrocchiali diocesani religiose li trasformi per andare sempre avanti nell'armonia che Gesù vuole per la comunità cristiana. di Grazie a tutti.